Buon mercoledì dai 94 e 5 con il bollettino meteo a cura della Seth Ryder Foundation. Una pioggia di meteore senza precedenti. Le meteore cadranno a largo delle coste di otto città diverse. Domani è previsto l'ingresso di uno sciame meteorico nell'atmosfera. Gli scienziati sono ancora alla ricerca di una spiegazione. L'evacuazione procede in tempi rapidi. È caduta una meteora sulla corvetta! Oh mio Dio! Da qui sembrano sagome indistinte. Saranno 5, 6, 7. Sembrano di natura meccanica! Basta Lucas! Spegni! Andiamo via! Quando si invade un luogo per depredarne le risorse si elimina anzi tutta la popolazione indigena. Tentano di colonizzarci. Si sono interrotte le comunicazioni con Tokyo, Rio e New York. Non possiamo rinunciare a Los Angeles. Che diavolo sono quelle cose? Indietro! Indietro! Quanti siete? Cinque e tre bambini! Stanno arrivando cinque civili! Non c'è più spazio! Aspettate! I bambini! Non c'è più spazio! Grazie a tutti.